Esiste una figura chiave per tracciare le radici dell'ecologia dei media all'interno della tradizione culturale statunitense. Questa figura è l'intellettuale newyorkese Louise Mumford, che in virtù della sua influenza su un numero molto ampio di studiosi può essere annoverato tra i precursori dell'ecologia dei media e in particolare tra gli iniziatori della cosiddetta scuola di New York. Nella sua lunga carriera Mumford ha espresso i tratti del pensatore a tutto campo, saggista, storico, studioso di architettura, arte, letteratura e dotato di una sensibilità nei confronti delle questioni urbane, dello sviluppo urbanistico e tecnologico, in fondo incuriosito dal rapporto che l'uomo intrattiene con la città. E quello della città è in realtà un tema tra i più efficaci per comprendere ciò che Mumford ha definito attraverso una particolare espressione, la tecnica, ovvero l'ambiente del sapere tecnologico agito e soprattutto vissuto dall'uomo. La città come espressione del profondo intreccio che esiste tra tecnica e cultura, i due elementi essenziali dell'ecosistema umano secondo la visione di Mumford. E per Mumford la città è l'espressione dell'evoluzione umana, il risultato di un'azione lenta e costante dell'uomo sul proprio ambiente, un'azione finalizzata a rendere questo ambiente conforme ai bisogni di sicurezza, di stabilità, gestione dei beni che da sempre hanno guidato lo sviluppo umano. Ma allo stesso tempo ci spiega Mumford la città nel corso dei secoli è diventata un nuovo ambiente per l'uomo, un nuovo ambiente capace di far nascere nuovi bisogni, nuove esigenze sociali, nuove spinte culturali e quindi un modo nuovo di pensare e percepire il mondo. In fin dei conti, nella visione di Mumford la città può essere considerata a tutti gli effetti un medium. Ogni ambiente urbano può essere osservato e compreso in quanto processo ecologico, ambientale, inglobante, capace di orientare e formare l'esperienza umana. Il ruolo di Mumford nel filone dell'ecologia dei media può essere perciò sintetizzato nei termini di una consapevolezza, olistica, globale nei confronti delle grandi emergenze sociali, culturali e tecnologiche del nostro tempo. La sua sensibilità umanistica e una visione sempre lucida fondata su un approccio trasversale al sapere fanno di Mumford un riferimento essenziale non solo per l'ecologia dei media e lo rendono testimone di un'eredità di pensiero tutt'oggi di immensa attualità. Grazie a tutti.